Buon pomeriggio. 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 I quattro concorrenti vanno ad affrontare la piegata di fondo con Super Alessandro che avanza per linee esterne, mette pressione a Red Charming e Coupe de Foudre, poi diseredato. Cavalli che completano la piegata di vista grande si entra in dirittura di arrivo con Super Alessandro all'esterno per linee interne Coupe de Foudre, tra i due Red Charming e poi diseredato. Siamo all'intersezione delle piste con Super Alessandro e leggero vantaggio, quindi Red Charming in calo Coupe de Foudre. Cavalli ai 300 conclusivi con Super Alessandro e Red Charming in lotta serrata. Siamo a 150 dal palo con Super Alessandro che deve subire l'attacco interno di Red Charming, a una di margine Super Alessandro a 50 dal traguardo. Super Alessandro vince nei confronti di Red Charming, poi Coupe de Foudre a lunghezze diseredato. Complimenti a Giuseppe Cannarelli, è un Super Alessandro che nonostante sia stato impegnato abbastanza prepotentemente dal Red Charming da favorito alla porta a casa. Sì, guarda, è impegnato come si vede nella direzione. Io l'ho montato non più di tanto perché non ho mostrato mai la frusta, l'ho portato sulla braccia, perciò fa tutto da sola. E quindi una vittoria facile? Sì, sì, facile. Complimenti. Grazie. Ancora quattro gli anziani al via nella seconda prova del palinzesto, premio incontro a Teano, Corsa a Vendere, 1200 metri in pista sabbia da affrontare per i quattro, come dicevo, al via dopo il ritiro del numero quattro dello schieramento Polidors. È tutto pronto, partiti. C'è lotta per guadagnare la leadership tra su Monticedo, Excel Pride e Crazy Duck, quindi in terza corsia, Kind Girl. I quattro sono ben riuniti quando si va ad affrontare la piegata con Excel Pride, che ora tende a passare in vantaggio nei confronti di Crazy Duck per linee esterne Kind Girl. Lungo la corda segue su Monticedo, che perde contatto con i primi quando ora si entra in dirittura d'arrivo, con Excel Pride a centropista, per linee esterne Kind Girl, all'interno Crazy Duck, poi su Monticedo, cavalli ai 350 conclusivi, con Excel Pride impegnato all'interno da Crazy Duck e a largo dalla favorita Kind Girl. Siamo ai 200 conclusivi e lotta serrata tra te con largo Kind Girl, per linee interna reagisce Crazy Duck. Crazy Duck è in vantaggio su Kind Girl, Crazy Duck vince su Kind Girl, Excel Pride. Duello annunciato con Kind Girl, questa volta però Crazy Duck ha avuto qualcosa in più. Sì, molto bene in corsa la cavalla, già l'ultima volta ha fatto un bel rascio finale, è rimasta un po' ingabbata in curva, però oggi si è messa bene la corsa e è andata bene e ho vinto. Congratulazioni. Grazie. E saranno ancora 1100 metri della pista sabbia da affrontare nella terza del palinzesso, premio Vittorio Emanuele, corsa a reclamare, scenderanno in pista questa volta i tre anni e sono in sei al via dopo il ritiro del numero quattro dello schieramento Dragatea. Tutto pronto e sei concorrenti sono in partenza, partiti. De Rocha Dora in vantaggio dopo i primi metri per linee interne ricattatrice, poi Singapore Black, il favorito in terza posizione. Quindi Anna De Gennaro con la giubba gialla in quarta posizione, con i fianchi Gold Futur, poi a seguire Al Capolero nel grigio. Cavalli lungo la piegata con in corda ricattatrice, al suo esterno si mantiene De Rocha Dora, poi Anna De Gennaro che preferisce le linee interne, al largo dello schieramento avanza con decisione Singapore Black, cavalli 350 conclusivi con De Rocha Dora che deve subire l'attacco di Singapore Black. I due si staccano in lotta con De Rocha Dora che reagisce all'attacco di Singapore Black che è passato a cento dal traguardo. Singapore Black subisce ancora una volta il ritorno di De Rocha Dora, se la giocano Singapore e De Rocha Dora, entrambi i due vicini sul palo, poi ricattatrice e Anna De Gennaro. Si allunga la distanza nel premio Giuseppe Garibaldi, 1800 metri della pista sabbia da affrontare per i quattro anni ed oltre al via, ritirato è il numero 7 dello schieramento Castel Tourè e sono in 7 agli ordini dello starter. Partiti. L'andatura non è sostenuta con Mingherlina e Saltage in avanti, scandire il ritmo, poi Mister Ghiaccio che filtra per linee interne con un contatto sartinaia, dietro a questi invincible touch Agapuntus e Wardina Spin. Si affronta la piegata di sinistra con Saltage e Mister Ghiaccio sulla stessa linea, terza e Mingherlina, quarta sartinaia lungo la corda a seguire Agapuntus 3-2 invincible touch a contatto, segue e Wardina Spin. Gruppo riunito lungo la dirittura opposta con Mister Ghiaccio e Battistrada nei confronti di Saltage e Mingherlina che spostano al suo esterno, quindi sartinaia, ancora Wardina Spin, invincible touch e Agapuntus che scivola in coda al gruppo. Cavalli che vanno ad affrontare la piegata conclusiva con Mister Ghiaccio impegnato all'esterno da Mingherlina nella sua scia Wardina Spin, poi Saltage, invincible touch, Agapuntus e sartinaia. Si va a completare la piegata con Mister Ghiaccio e Mingherlina sulla stessa linea, per linee esterne si profila Wardina Spin, quindi Saltage e Agapuntus, per linee interne invincible touch e sartinaia. Quando siamo ai 350 conclusivi con Mingherlina attaccata da Wardina Spin per linee esterne, risale Saltage, ancora invincible touch. Siamo ai 100 conclusivi con Wardina Spin che deve subire ancora Mingherlina e Wardina Spin che allunga nel finale e vince su Mingherlina, poi Saltage, invincible touch. Complimenti a Stefano Possiglione per il doppio intanto in giornata, Wardina Spin cancella le ultime non brillantissime prestazioni con questa vittoria. Diciamo che la primavera sembra che invece di 10 in a 5 gli anni, oggi ha stracorso bene il cavallo, ripeto, ha una condizione in questo momento molto smagliante. E adesso ci addentriamo nella prova di cartello del convegno di oggi al Mediterraneo, nella condizionata abbinata al premio 152esimo anniversario. Sono i soggetti anziani, 4 anni ed oltre alla via per il miglio in pista grande, ritirato in corsa il numero 2 dello schieramento Seltimar e sono in 6 al confronto. E' una bella prova, partiti! Noir Lomier, come del resto era prevedibile, assume l'iniziativa nei confronti di Candidofer, quindi Mr. Gotham, Super Sascha e Vittoria Day. I cinque concorrenti completano i primi 250 di gara con Noir Lomier e Battistrada, nei confronti di Candidofer della grigia con all'interno Mr. Gotham, poi Super Sascha con ai fianchi Vittoria Day. Cavalli che vanno ad affrontare la curva di fondo con Noir Lomier avvicinato ora da Vittoria Day, che risale in seconda posizione, lascia in terza Mr. Gotham, quarta la grigia Candidofer, poi Super Sascha all'estrema attesa. Si completa la piegata e si entra addirittura ad arrivo con Noir Lomier sempre in vantaggio nei confronti di Vittoria Day. Poi Candidofer per linee esterne, per Varchi, Mr. Gotham, ancora Super Sascha. Siamo ai 400 conclusivi, con Noir Lomier impegnato da Candidofer, poi a seguire Mr. Gotham lungo la corda, con ai fianchi Vittoria Day, e a largo avanza con decisione anche Super Sascha. Noir Lomier in piena accelerazione ai cento finali. Noir Lomier vince sul compagno di allenamento, sulla compagna Super Sascha, poi a seguire Vittoria Day. Sì, complimenti al team Bosco Cannavò e complimenti a Damiano Migliore, che ha graduato a piacimento Noir Lomier e lo ha portato facilmente alla vittoria per un ottimo rientro, no? Sì, è un bel cavallo, di sicuro ha una bella categoria, ha dimostrato quello che sa fare e si è confermato dopo le due vittorie sull'handicap. Complimenti a Damiano Migliore, ti faccio andare al... sì. Volevo anche dedicarlo a un artiere che si ci dedica particolarmente, gli ho molto affezionato Cristiano. Grazie. Ed è doppietta con Super Sascha. Sì, il cavallo era nuovo a Lomier, noi ce ne eravamo tanto, anche perché viene da due importanti vittorie. Sai, un cavallo con voi rientro lo paga, però oggi sono contento sia per il cavallo sia per Damiano, che l'ha montato veramente alle lettere. Vince la categoria. La categoria sì, anche onore agli avversari. Certo, sicuramente. Complimenti. Grazie. Ci avviamo adesso alla conclusione di questo convegno, con la sesta del palinsesto. Premio sbarco armarsala, discendente di minima, per cavalli di quattro anni ed oltre, 1.400 metri della pista piccola da affrontare, per i sette raccolti al via dopo la dichiarazione di non partenza di Cape Dubai. Inizia l'Alessandro Costa, partiti. Premi metri con Spirit in the Dark, che tende ad assumere l'iniziativa nei confronti di Armata Branca Leone, quindi in terza posizione Toddler, poi per linea esterna Alcatitanic, quinto Egocentric, sesto Waller Heard Tedli. Chiude il gruppo la Roccaccia, si va ad affrontare la piegata con Armata Branca Leone, che ora guadagna una lunghezza e mezza, ha Spirit in the Dark al suo esterno Toddler, quindi Alcatitanic in terza corsia, subito dopo Egocentric, ancora Waller Heard Tedli con in coda la Roccaccia. La retta d'arrivo con Armata Branca Leone in vantaggio nei confronti di Toddler, quindi Alcatitanic, Waller Heard Tedli, che sposta a largo ancora la Roccaccia Egocentric. Siamo ai 200 conclusivi, con Alcatitanic attaccato da Egocentric, poi per linea interna Toddler a seguire la Roccaccia, che si ingamba a largo. Egocentric allunga nel finale e vince su Toddler e la Roccaccia. Complimenti Alessandro Costa e a Egocentric, che accelera i 100 conclusivi e si stacca, va via. Sì, il cavallo, la corsa prima, non era tanto in forma. Vinicio gli ha messo le mani addosso, l'ha preparato molto bene e stamattina abbiamo vinto. Nel senso che l'ha preparato bene. Grazie a Vinicio che mi ha dato tanta fiducia e spero di andare avanti. E si chiude il convegno di oggi all'Ippodromo del Mediterraneo con il premio Spedizione dei Mille. Discendente di Minima, ancora 4 anni oltre al Via, la distanza sarà più lunga, la selettiva distanza di 2100 metri della pista piccola per i 7 chiamati al confronto. Partiti. Titus Clay, per un attimo figura in avvantaggio, ora viene sopravvanzato da Mr. Galli che scende lungo la corda tra i due Giancani, poi quarto King the Gold, il grigio, per linee esterne Full Swave, tra i due Anna David, chiude il gruppo Wood Green. Cavalli lungo la piegata di sinistra con Mr. Galli battistrada, in seconda posizione Giancani, in terza Titus Clay, aumenta il ritmo al completamento della piegata di sinistra con Mr. Galli in avanti a fare andatura nei confronti di Giancani che seguono a lunghezza, poi Titus Clay, quindi la coppia formata da King the Gold Full Swave, a seguire Wood Green con in coda ora Anna David. Si affronta l'addirittura opposta con Mr. Galli impegnato da Giancani, quindi in terza posizione Titus Clay, quarto e King the Gold, per linee esterne muove le acque anche Anna David, in anticipo su Wood Green Full Swave. Gruppo comunque è ben riunito quando si va ad affrontare la piegata di pista piccola, la curva conclusiva, con Giancani che rompe gli indugi e passa di forza nei confronti di Titus Clay, terzo ancora da Mr. Galli, poi in quarta posizione risale Wood Green, quinta Anna David, a seguire King the Gold e Full Swave. La retta d'arrivo con Giancani che si presenta in buon vantaggio, cerca di scappare da Titus Clay che avanza per linee esterne, quindi Wood Green, ancora roccate in corda Mr. Galli, il battistrata iniziale, per linee esterne si propone anche Full Swave, per Varky Wood Green e King the Gold, cavalli ai 200 conclusivi, con Giancani attaccato a fondo da Wood Green che scatta al centro dello schieramento, Wood Green e Giancani, Wood Green, Wood Green, nel finale di misura su Giancani, King the Gold e Titus Clay. Brillano più del sole di oggi all'ippodromodelle mediterraneo, l'arancione e il giallo che sono i colori della scuderia di Antonino Bosco, Noir Lumiere e Super Sascha occupano prepotentemente i vertici del podio nella condizionata abbinata al premio 152, anniversario. Un ottimo rientro, quello per il figlio di Juan Culquette, che aveva come biglietto da visita due vittorie recenti in handicap principale. Perfetta l'interpretazione di Damiano Migliore, che ha graduato al piacimento ai 1600 metri della pista grande e in piena accelerazione, poi ai 100 metri conclusivi si è lasciato alle spalle la compagna di scuderia, sempre al training di Sebastiano Cannavò, Super Sascha, e si è dovuto accontentare solo di una terza piazza Vittoria Day, in sella aveva Ivan Rossi. Ma l'allenatore Sebastiano Cannavò, ancora per i gonori della scuderia Bosco Unipersonale, aveva messo già il segno ad apertura convegno nella vendere con Super Alessandro. Complimenti all'allenatore, invece, Stefano Postiglione, che sulla scia di un periodo positivo confeziona una bella doppietta con Crazy Duck, che esce vittorioso dal duello con la favorita Kind Girl nella vendere del premio Incontro a Treano e con il ritrovato Wardina Spin, che sigla invece il discendente abbinato al premio Giuseppe Garibaldi, entrambi riservati agli anziani. L'appuntamento con il galoppo al Mediterraneo è rimandato al pomeriggio di lunedì di Pasquetta. Arrivederci. Grazie a tutti.